buongiorno a tutti eccoci qui nuovamente su questo gruppo questa diretta Facebook sono Mauro Tronti il presidente dell'associazione malati di Menier e abbiamo con noi come nostri eh relatori per questo webinar il professor eh Giuseppe Attanasio e il dottor Andrea Santoni che eh ci daranno delle bellissime informazioni soprattutto per utilizzare eh quello che è al meglio nella nostra sintomatologia si verifica spesso problemi di eh udito e problemi di riabilitazione vestibolare condurrà eh il nostro Giampiero Camminiti consigliere dell'associazione e per cui eh vi auguro un buon ascolto e se avete domande da porre basta che le inserite nella chat e poi alla termine del webinar eh ci sarà una sessione proprio dedicata alla risposta di queste domande che voi vorrete. Grazie, buona visione professore e grazie a lei. Grazie Mauro, grazie all'associazione per avermi invitato a fare questo questo webinar anche perché è una cosa a cui io tengo molto in quanto ehm si parla molto di diagnosi, si parla molto di linee guida, si parla molto di di sintomatologia ma poi in realtà quello che al paziente serve e questo sia per la malattia di Meniere sia per qualunque altra malattia è sapere se ha una terapia, se sapere cioè se quei sintomi che sono tipici della sua malattia in qualche modo possono essere alleviati o addirittura risolti se proprio non si riesce a risolvere la malattia per intero. Noi sappiamo, i malati di Meniere lo sanno bene purtroppo e non c'è una terapia che riesce a guarire clinicamente, biologicamente la malattia di Meniere. La malattia di Meniere è legata ad un aumento di pressione dei liquidi all'interno dell'orecchio e causata da tantissimi fattori, quello vascolare, genetico, dietetico, immunologico, emozionale, sono tanti, sono tanti i meccanismi e quando sono molti i meccanismi che provocano una malattia è ovvio è molto difficile immaginare una terapia che possa andare bene per tutti. Proprio ieri stavo parlando con il professor Bruno che collabora con noi da tanti anni e che è un amico dell'associazione in cui appunto si diceva certamente ci sono tantissimi pazienti che vengono trattati con la chirurgia endolas con l'are, la cosa geoplastica per cutanea transforminare per eliminare il problema dell'insufficienza venosa cerebrospinale che spesso è presente nel malattio di Meniere però poi si vede che un 20-22% di pazienti che pure hanno un'indicazione specifica che pure hanno un problema vascolare particolare vengono operati e dopo un anno, un anno e mezzo cominciano a riempire le crisi vertiginose in senso di vattamento. È una terapia sempre difficile da trovare, è una malattia sempre difficile da gestire e questo fa sì che poi alla fine ci sia la necessità come spesso accade in medicina di trattare i sintomi almeno quelli più importanti piuttosto che immaginare una terapia che possa andar bene e risolvere completamente la situazione. Questo è il motivo per cui questo webinar credo che possa essere utile e interessante sia per i medici che si occupano di malattia di Meniere sia soprattutto per i pazienti per sapere un pochettino a che cosa vanno incontro, cosa possono aspettarsi dalla medicina, cosa possono aspettarsi dalle ultime risorse tecnologiche che sono presenti. Allora io apro il mio schermo di diapositive per cercare di rapidamente raggiungervi anche da un punto di vista grafico e questo è appunto quello che vorrei farvi vedere oggi. Come vi dicevo la riabilitazione uditiva e vestibolare perché noi sappiamo che la malattia di Meniere è tipicamente manifestata con quattro sintomi principali che sono la vertigine, l'ipoacusia, l'acufene e poi questa sensazione di pressione, di ovattamento che viene normalmente denominata fullness. Ma è ovvio che la crisi vertigino salutatoria, l'ipoacusia prima fluttuante, poi pian piano purtroppo stabilizzata verso valori di media e alta gravità e l'acufene, questa sensazione soggettiva, il suono all'interno della testa o dentro l'orecchio o dentro le orecchie è inizialmente tipicamente un motore, una sensazione molto cupa di tipo proprio conchiglia di mare e che stesso precede il sintomo vertiginoso e poi piano piano lascia il paziente nei periodi intercritici e poi invece purtroppo con l'avanzare della malattia la vertigine tende a ridursi ma l'ipoacusia tende a peggiorare, l'acufene diventa stabile e dalle tonalità, dalle frequenze più gravi passa alle frequenze via via più acute diventando un simbilo sempre più fastidioso. Vedete in questa diapositiva come l'associazione classica di vertigine, ipoacusia e acufene è presente solamente nel 40% dei pazienti come sintomo iniziale della malattia. Molto spesso c'è solo l'ipoacusia e l'acufene, il paziente si accorge di avere un ovattamento saltuario dell'orecchio con questo rumore ma non ha nessuna crisi vertiginosa nel 20% dei casi, addirittura nel 14% la vertigine rotatoria è l'unico sintomo che inizia la manifestazione della malattia di Miniera e magari dopo alcuni mesi o anche anni inizia la ipoacusia fluttuante. Tutto questo per dirvi che quando arriva un paziente con una vertigine rotatoria intensa di una durata lunga e che non sembra essere dovuta nella unita vestibolare è sempre da tenere in conto il fatto che possa essere un primo segnale di malattia di Miniera. Ovvio che se arriva invece con la vertigine, l'ipoacusia fluttuante e l'acufene la diagnosi è molto più semplice. Qui molto rapidamente la evoluzione della malattia inizialmente vedete le fasi iniziali con la diminuzione dell'udito sulle frequenze gravi, poi pian piano questa diminuzione diventa cosiddetta pantonale cioè che interessa tutte le frequenze per poi diventare nella fase finale che viene chiamata fase topica una ipoacusia medio, grave e addirittura severa, in alcuni casi profonda. Qual è uno dei sintomi più fastidiosi a punto di vista uditivo del malato di Miniera è quello che viene chiamato il recruitment, cioè la sensazione soggettiva di intensità dello stimolo è completamente alterata. Io normalmente ho la sensazione che un suono tende ad aumentare e mi accorgo di questo aumento, di questa gradualità, nel malato di Miniera invece c'è un salto improvviso da una sensazione soggettiva di comoda audibilità rapidamente con piccole variazioni di aumento di intensità ad un suono che diventa invece assolutamente fastidioso o addirittura doloroso. Questo è legato a quello che viene chiamata la riduzione del campo dinamico, cioè della differenza tra la soglia di udibilità e il livello del fastidio. Questo è un campo dinamico di un soggetto normale, vedete sta intorno ai 100-110 decibel, questo vuol dire che io finché non raggiungo un suono di quella intensità riesco a sopportarlo senza avere fastidio. Vedete invece nel malato minierico come si riduce il campo dinamico per alcune frequenze addirittura è di soli 40 decibel, questo vuol dire che dal momento in cui comincio a sentire il suono al momento in cui questo suono diventa fastidioso, lo scarto di intensità è molto basso e questo evidentemente si ripercuote anche nell'audiometria vocale che è tipicamente il famoso fenomeno del rollover, cioè man mano che aumenta l'intensità del suono migliora la mia discriminazione e arriva a un punto tale in cui l'aumento dell'intensità del suono e la parola si manifesta, si corrisponde ad un peggioramento della mia capacità di percezione e di intellezione della parola. Questo è assolutamente un problema perché la riduzione del campo dinamico porta una fonofobia, cioè una paura da parte del paziente con meniera di andare in ambienti rumorosi, di sottoporsi a stress acustici fino alla cosiddetta misofonia. La misofonia, cioè addirittura, con questo stiamo parlando di un sintomo più neuropsichiatrico, addirittura in cui anche piccole, piccole intensità di suono, addirittura la masticazione, lo starnuto, possono provocare una sensazione di fastidio o addirittura di dolore. Una ipocusia in un paziente menierico, per definizione essendo un'ipocusia che fluttua, si è sempre detto che non può essere protesizzata. In parte è ancora vero, ma il progresso tecnologico, e questo è il primo messaggio che voglio dare, il progresso tecnologico e soprattutto un progresso che riguarda i filtri nel guadagno protesico e la struttura degli altoparlati, dei microfoni soprattutto, ha già cominciato a cambiare un po' questo dogma che fino a qualche anno fa era presente. Perché fino a qualche anno fa? Perché ormai alcuni preghi acustici, con la presenza di un doppio ricevitore e con la presenza di una particolare conformazione della chiocciola, aperta e ventilata con una punta medio-lunga, il cosiddetto cochi, già comincia ad essere un apparecchio che può essere proposto ai pazienti menierici. Ma in particolare, e questo è importantissimo che l'otorino lo sappia, perché è lui che deve poi indicare al tecnico di audioprotesizzazione il tipo di protesi che deve essere inserita. Perché guardate, noi otorini abbiamo un problema, che capiamo poco o quasi niente di protesizzazione acustica. Ecco perché io spero che oltre ai pazienti in questo webinar ci siano anche degli otorini, degli specialisti colleghi, perché è l'otorino che in base al paziente che ha davanti deve indicare al tecnico di audioprotesizzazione qual è la protesi più opportuna. È ovvio che se io ho davanti un paziente con un'ipoacusia e acufene, io ho bisogno di dire al tecnico di mettere un open fitting combinato. Se il paziente ha l'acufene, ha una soglia pantorale e potenzialmente potrebbe avere una protesi acustica endaurale, io devo dire al tecnico non gliela mettere la endaurale, perché anche se teoricamente può usufruire, può avere dei vantaggi dal punto di vista acustico, il suo acufene tenderebbe a peggiorare. E lo stesso nel menierico, io devo dire al tecnico di autoprotesizzazione non mettere un apparecchio tradizionale, metti un apparecchio clear band, metti un cochi, ma metti soprattutto un apparecchio con il proprio microfono, direzionale per le alte frequenze, omnidirezionale per le basse frequenze. Non sto a entrare nel dettaglio perché deve essere così, ma deve essere così, perché è il microfono il punto di fulcro ed è il punto di maggiore debolezza nella protesizzazione, perché se il microfono è omnidirezionale e quindi riesce ad essere buono per le basse frequenze, ma cambia la sua funzione per la localizzazione sulle alte frequenze, il paziente menierico ha disturbi e lo stesso se è tutto direzionale sia per le basse che per le alte. Quindi la cosa importante è un open fitting, ciocciola cochi, doppio microfono direzionale per le alte, omnidirezionale per le basse. Questo il tecnico di autoprotesizione lo sa, se glielo dice, lo torino, altrimenti come al solito purtroppo succede di danno l'apparecchio più performante, più potente, più con gli optional, bluetooth, che si attacca all'Apple, che va su internet, cose che al paziente menierico gli frega pochissimo, a lui interessa che quando arriva il suono, il microfono lo sappia filtrare, lo sappia accettare e lui riesca a sentire senza quel rimbombo e quel recruitment che invece fanno sì che molto spesso i pazienti non vengano protesizzati. Quando c'è una diminuzione di unito monolaterale, nel paziente menierico spesso accade questo, soprattutto nelle fasi iniziali intermedie, perché purtroppo noi sappiamo che in un 35-40% dei casi poi la meniera diventa bilaterale, quindi anche l'altro orecchio comincia a soffrire da un punto di distruttivo, ma per molti anni il paziente menierico può avere solamente un'ipoacusia monolaterale. Allora in questo caso o mettiamo quegli apparecchi che dicevamo prima, o per combinati, clear band, cochi e con doppio microfono, o per oppure se la situazione è molto grave, come in questo caso, in cui noi abbiamo un orecchio praticamente normale e un orecchio che ha solo dei residui editivi, in questo caso noi abbiamo la possibilità di ammettere o un apparecchio che si chiama CROSS, il controllato del routing of signal, cioè la deviazione controllata dal segnale. Anche questo noi lo dobbiamo dire al tecnico di mettere un CROSS o un BCROSS, come in questo caso. Il CROSS è quando noi abbiamo una situazione di questo genere, orecchio normale e l'orecchio malato molto sofferente, ma quando invece noi abbiamo un orecchio molto sofferente e l'altro orecchio comunque in difficoltà, non possiamo proporre il CROSS, dobbiamo proporre il BCROSS, cioè un apparecchio che ha in tutte e due i dispositivi in amplificazione e il wireless che gli fa comunicare uno con l'altro. In questo caso il BCROSS addirittura è molto più performante del CROSS. Quando invece non c'è più possibilità o il paziente menerico ha la voglia di migliorare la sua qualità del suono o per problemi lavorativi o anche per un fatto personale relazionale, allora si può proporre al paziente menerico di inserire l'impianto cocleare come protesi acustica, in questo caso non è più un apparecchio acustico, ma è addirittura un bypass della coclea con un apparecchio, come voi sapete, che ha una parte interna con degli elettrodi che vanno nella coclea e che stimolando la parte modiolare del nervo cocleare riescono a bypassare il problema delle cellule ciliate che nel menerico sono particolarmente sofferenti. In alcuni casi, nelle sordità asimmetriche in cui c'è una ipoacusia pantonale grave e profonda da un lato e un'ipoacusia percettiva, molte scuole, tra cui anche quella nostra di Roma, propongono il cosiddetto sistema bimodale, cioè la protesi da un lato, l'impianto dall'altro con un dialogo tramite bluetooth tra i due sistemi che rendono un ascolto stereofonico bidirezionale con una migliore prestazione nella percezione delle frequenze, del parlato nell'ambiente rumoroso. La fullness è estremamente variabile, qualche volta è quasi inavvertita dal paziente, c'è questa sensazione, vi ripeto, la fullness è questa sensazione di ovattamento, di pressione che dall'interno dell'orecchio va verso l'esterno, proprio è tipico il paziente menerico quando gli domandiamo ma lei ha la pressione e lui spesso dice guarda dottore è proprio come se ci fosse qualcosa che da dentro vuole uscire fuori dalle orecchie, proprio che spinge verso l'esterno e questo è proprio tipico quando voi sentite una cosa del genere, proprio un idro pendolinfatica a tutti gli effetti non c'è da discutere sulla diagnosi. Il 68% dei pazienti menerici riferisce la fullness nel quasi nel 40% da moderata grave, ecco quindi come la fullness pur non essendo un sintomo uditivo vero e proprio perché non è una perdita di udito, non è un acufene, ma è una sensazione, una percezione di pressione, ma vedete come nel 40% di questi pazienti diventa talmente importante che è uno dei problemi che più spesso riferiscono e che vogliono alleviare. La terapia medica e la terapia di rilassamento sono molto utili, abbiamo visto che la fullness insieme alle crisi vertiginose sono i due sintomi che più rispondono alla terapia endovasale di angioplastica per cutanea transubicane. Qualcuno consiglia l'Otovent, ma vi assicuro che non funziona, altri hanno provato il Meniet, anche in questo caso è un dispositivo che dà delle pressioni intermittenti nell'orecchio medio che si riflettono poi nell'orecchio interno, ma i dati di letteratura e soprattutto le meta-analisi della Cochrane hanno stabilito che, almeno nel paziente menierico, questi tipi di terapie non funzionano. Quindi per la fullness l'unica cosa da fare è abbassare la pressione di liquido all'interno dell'orecchio, quindi terapia medica, qualche volta di uretici, qualche volta di S&P C Flex, qualcuno risponde bene anche a una dieta iposotica iperidrica, ma non è da stressare troppo questo concetto perché purtroppo gran parte dei pazienti con menier non rispondono a una terapia con riduzione significativa di sodio e un aumento di apporto idrico. Fa sempre bene perché fa bene al corpo, fa bene al cuore, fa bene ai reni e un po' fa bene anche all'orecchio, ma diciamo che non è una terapia significativamente utile quella iposotica e iperidrica in molti pazienti. Gli acufeni, questo è un altro problema serio, è un altro problema perché come vi dicevo all'inizio gli acufeni sono collegati con la crisi vertiginosa, poi diventano autonomi e questo è tipico dell'acufene, l'acufene di qualunque sia l'origine, antipolare, trauma acustico, ipoacusia, malattie di menier, all'inizio sono collegati al problema che li ha provocati, ma subito dopo, dopo alcuni mesi o al massimo dopo un anno, l'acufene si autoalimenta, diventa autonomo rispetto alla situazione che lo ha determinato. Se io ho un disturbo dell'articolazione temporomandibolare, lo mando dal massimo facciale, gli fa elettroniografia, gli metto uno bello sprint neuromuscolare occlusale, la sua situazione mandibolare si risolve, non ha più bruzzismo, non ha più disfunzione, ma l'acufene gli resta. Perché gli resta? O almeno gli resta anche se sicuramente attenuato, ma gli resta perché lo ha memorizzato. L'acufene a un certo punto diventa un problema del cervello, del sistema limbico, ipocampo, amigdala, del sistema reticolare, quindi immaginare che un acufene di dieci anni possa andare via con uno sprint neuromuscolare o con una terapia medica o con una tecnica di rilassamento o con una terapia miofasciale è un po' difficile che questo accada. Questo non vuol dire che non devono essere fatti, perché noi dobbiamo sempre immaginare che l'acufene è un'unione, è una somma di fattori che lo provocano. Quindi noi dobbiamo fare in modo che l'acufene, che è un sintomo, non è una malattia, venga rimosso dal cervello, ma io devo fare in modo che il cervello sia nelle condizioni migliori per rimuoverlo. Per fare questo devo togliere di mezzo tutti i fattori favorenti l'acufene. Quindi da una disfunzione metto lo sprint, ha un problema di contrazione cranio-cervico-facciale, faccio fare la terapia miofasciale funzionale, ha un problema di tipo uditivo, mettono per fitting combinato, ma alla fine se io non faccio una terapia cognitivo-comportamentale, una terapia sonora di disabituazione, è molto difficile. dell'acufene. L'acufene della malattia diminuire può diventare cronico, dobbiamo mettere una protesi acustica, esistono altre terapie? Ecco, ve l'ho già detto. Terapia medica, assolutamente sì, le terapie mediche, antinevrangici soprattutto. Noi sappiamo ormai da anni, da anni, che l'acufene dopo una prima fase non segue più la linea del sistema uditivo, non segue il percorso del nervo uditivo, delle vie nervose, delle vie uditive centrali, assolutamente no, l'acufene prende la strada del dolore cronico, ecco perché quando si è più stanchi, quando si è più irritati, quando si mette più attenzione, l'acufene aumenta al pari del dolore cronico e al pari del dolore cronico se si è più distratti, se si è più sereni, se si è più riposati, l'acufene si riduce, esattamente come accade per il dolore cronico. Allora, terapia medica con antinevrangici, centrali, pregabaline, gabapentin, questi sono gli farmaci che vengono utilizzati, insieme a terapie cognitivo-comportamentali, la TRT, la terapia di arricchimento sonoro, è una terapia essenziale ma non può essere presa e messa lì da sola, deve essere associata a tecniche di sonore, la Mozart terapia, per esempio, non la utilizziamo tantissimo, ha una tecnica comportamentale, una tecnica di cosiddetta disattenzione o distrazione dell'attenzione, per esempio, noi utilizziamo molto la mindfulness, le terapie cognitive sono tutto questo per farvi capire che chi si occupa di acufeni, che sia un menerico o non sia un menerico, o ha un team che lo supporta, oppure è meglio che lascia perdere, che lo manda qualcuno un po' più organizzato. La terapia sonora per l'acufene può essere fatta tranquillamente in una prima fase, quello dell'arricchimento sonoro ambientale notturno, con dei, con delle applicazioni, il Finitus Therapy Light, per chi ha l'Apple, i suoni della natura, per chi ha l'Android, accendono, scaricano questa applicazione gratuita, vanno sull'elenco dei suoni, ruscello, pioggia, cascata, vento, mare, quello che vuole, se lo mette lì sul comodino, il suo smartphone, acceso a volume minimo percepibile, tutta la notte si sente questo suono. Questo è l'arricchimento sonoro ambientale notturno, che tutti i pazienti con acufene, qualunque sia il tipo di acufene, dovrebbero fare. Volume minimo percepibile tutte le notti, per tutta la notte, per alcuni mesi. Questo è una parte della TRT. Molti dicono, sto venendo alla TRT, poi glielo chiedi e fanno solamente l'arricchimento notturno con il ruscello a notte, ma quello non è la TRT. La TRT è tutta un'altra cosa. La TRT è un suono che di giorno viene utilizzato dal paziente attraverso un generatore di suoni, che è una cosa tipo questa, e che viene mandato a una, in un modo particolare. Molto spesso la TRT viene fatto con un apparecchio combinato per fitting, come questo qui, che manda un rumore bianco direttamente al paziente. Anche qui ci sono delle novità, nel senso che ormai si è visto che gran parte dei suoni che hanno una buona azione, hanno questa caratteristica, cioè la notch, il notch sound, cioè il taglio, il buco all'interno della traccia sonora all'interno della quale l'acufene ha messo. Quindi, per fare una TRT, fatto bene, bisogna fare una cufenometria multifrequenziale ad alte frequenze, cioè noi dobbiamo avere un apparecchio di diagnostica audiologica, che si chiama audiometro multifrequenziale ad alte frequenze, altrimenti è impossibile andare a cercare la frequenza dell'acufene, perché la metà dei pazienti con acufene hanno un acufene che supera gli 8000 Hz, quindi se uno ha un acufene a 9500 Hz, io col mio audiometro clinico non lo troverò mai. Se io ho un acufene anche a 5000, 6000 Hz, ma non ce l'ho tonale, cioè non ce l'ho a 4000, a 3000, a 6000, ma ce l'ho per esempio a 5825, se io non ho un audiometro multifrequenziale, non lo troverò mai. Allora, chi si occupa di acufene di avere un audiometro multifrequenziale ad alte frequenze, va a cercarsi l'acufene, prende il range frequenziale, lo toglie dal suono che sta all'interno dell'apparecchio Open Feet, gli fa un bel buco, glielo manda tutto il giorno a un volume minimo, a un volume, scusate, di comodo udibilità, mixing allo stesso livello dell'acufene, l'acufene entra dentro questo buco che abbiamo fatto nel rumore bianco e viene elaborato dal cervello al pari del rumore neutro che genera l'apparecchio acustico. Questo è una TRT di seconda generazione che tutti che si occupano di acufene dovrebbero fare. Bene, questo era per quanto riguarda l'udito, per quanto riguarda l'acufene e per quello che riguarda invece la fullness. Il quarto sintomo, come vi dicevo, è il sintomo della vertigine e come tutti i pazienti che soffrono di malattia di Meniere sanno è il sintomo principale, soprattutto nelle fasi iniziali e intermedie della malattia, perché il paziente ha una crisi vertiginosa intensissima, duratura da 20 minuti fino ad alcune ore, con fenomeni neurovegetativi, quindi nausea, vomito, una sensazione terribile di insicurezza che lascia questa crisi vertiginosa e questa crisi ovviamente è legata all'aumento dell'idrope che una volta attivata non c'è niente che la fermi. Ovviamente sappiamo benissimo che quando c'è una crisi vertiginosa intensa, l'unico da fare è cercare di bloccare i sintomi, quindi farmaci, antiemetici, vestibolo soppressori, cortisonici, diuretici, osmotici, la terapia medica su questo ha ampia possibilità, anche se, vi ripeto, una volta che la crisi si è scatenata deve fare il suo corso, per quanto noi possiamo dare al paziente dei farmaci, noi possiamo solamente ridurre il tempo della crisi, ma di sicuro non la blocchiamo immediatamente. E questo è un problema perché noi sappiamo che ogni volta che c'è una crisi vertiginosa il paziente non ritorna mai nelle stesse condizioni di quanto era all'inizio. L'udito, la fullness, la cufene sono sempre peggiorati ogni crisi vertiginosa che accade. Quindi il primo goal è quello di ridurre la crisi vertiginosa, ma questo viene fatto con la terapia medica, non c'è altro modo, terapie locali con le filtrazioni intravempaniche, terapie generali, terapie in flebbo, in vena, poi questo è una zona in cui non voglio entrare perché poi si avrebbe un webinar solo per questo. Ma qual è il problema? È che molto spesso, molto spesso, i pazienti con la malattia di Menier hanno i periodi della crisi, quindi con un giorno, due, anche tre, in cui stanno male e poi piano piano si riprendono e ci sono poi i periodi cosiddetti intercritici in cui il paziente, a un punto di vista vestibolare, è in assoluto benessere e questi pazienti non devono fare nulla e non quello di fare terapie mediche per ridurre la frequenza delle crisi. Altri pazienti invece, e stiamo intorno al 22-26% secondo la letteratura, purtroppo anche nei periodi intercritici riferiscono sintomi vestibolari, sfumati ma che peggiorano la loro qualità della vita e che vanno ad inserirsi in quel quadro di insicurezza e insicurezza posturale che viene dalla memoria della crisi. Instabilità, disequilibrio, oscillopsia, sensazione di difficoltà quando muovono rapidamente la testa, quando ci sono oggetti che rapidamente si muovono nel campo visivo e tutto questo provoca una rigidità del collo e quindi un peggioramento per una contrazione dei muscoli cranio-cervico-facciati. Allora in questo caso, e di questo ne parlerà il collega Andrea Santoni che si occupa di questo, noi proponiamo una riabilitazione vestibolo-propriocettiva. Perché vestibolo-propriocettiva? Perché certamente la fase più importante è la fase della riabilitazione del vestibolo, cioè del sistema dell'equilibrio, ma in molti pazienti, come vi ho detto, c'è anche una fase di tipo-propriocettiva con la decontrazione delle fasce cervicali profonde su cui si appoggiano i muscoli, cranio-cervico-facciati, che questo sì aiuta tantissimo il riabilitatore vestibolare a fare il suo lavoro. Allora, io mi fermo qui per quanto riguarda la mia parte, lascio una decina di minuti, un quarto d'ora a Dottor Santoni che vi parla un po' della nostra esperienza nel campo della riabilitazione vestibolo-propriocettiva, soprattutto vestibolare, e poi magari facciamo qualche discussione insieme. Buongiorno a tutti, sono Andrea Santoni, tecnico-diometrista, collaboro con il professor Giuseppe Attanasio da quattro anni e mi occupo di rieducazione vestibolare e oggi appunto vi faccio un accenno breve, ma spero significativo, di che cosa ci occupiamo. Allora, intanto che cos'è la riabilitazione vestibolare, è una terapia fisica con strumenti o senza strumenti che favorisce i naturali meccanismi fisiologici del compenso vestibolare e le linee guida APTA 2016 indica una riabilitazione vestibolare come qualcosa che deve essere offerta a tutti i pazienti con disfunzione vestibolare unibilaterale acuta, subacuta e cronica derivante da patologie di origine centrale o periferica. Allora, la presa in carico del paziente, come vedete in questa slide, che vado molto di fretta, la riabilitazione vestibolare è una appunto è qualcosa che può interessare sia l'otoninore ingoiatra, ma come parlava appunto il professor Giuseppe Attanasio, è un'equip che fa la differenza e quindi un chirurgo maxillofacciale, un fisiatra, un urologo, un ortopedico, un fisioterapista stesso e un chirurgo vascolare possono indicare la strada riabilitativa. Allora, diversi tipi di vertigini per diverse specializzazioni, è normale che una vertigine centrale come un ictus, una sclerosi multipla vada più da un punto di vista di specializzazione neurologica o torino, mentre una vertigine periferica, mentre una vertigine un'instabilità soggettiva cronica, che ecco, che può essere quella che si manifesta nel periodo intercritico tra una crisi e l'altra dei malati di Menier, può essere anche consigliata da altre figure che non siano lo torino o il neurologo. Allora, la presa in carico del paziente. Una volta che il paziente è stato mandato a fare riabilitazione vestibolare, noi lavoriamo in questo modo. Proponiamo al paziente un questionario anamnestico, che sono 25 domande riguardanti la vertigine o il disequilibrio, ed è un questionario anamnestico che non solo serve per l'oggettivazione dell'evoluzione della terapia, ma è qualcosa di fondamentale per la prima seduta valutativa, perché la prima seduta valutativa, quella che vi elenco in breve in questa diapositiva, non è qualcosa di diagnostico. Io ho la fortuna di collaborare con il professor Attanasio, che appunto fa già diagnosi e prognosi al paziente, ma la mia valutazione vestibolare mi serve perché, come vedremo successivamente, la riabilitazione vestibolare è qualcosa di personale, è qualcosa di specifico, non può essere effettuata in gruppo e quindi ogni paziente ha le proprie caratteristiche sintomatologiche, ha i propri deficit dei riflessi vestibolo spinali, vestibolo colomatori o vestibolo collici e ogni paziente va trattato diversamente. Dopo il questionario faccio qualche domanda anamnestica, soprattutto che mi serve per capire come influisce l'istabilità e il disequilibrio nella vita quotidiana del paziente. Effettuo qualche test vestibolo spinale che sicuramente tutti i pazienti avranno effettuato con il medico, quindi il test di Romberg per valutare la stazione retta, il test di Fukuda per valutare una possibile laterodeviazione, soprattutto ad occhi chiusi, quindi quando si perde l'afferenza visiva, che non mi serve tanto per capire il lato affetto. Il lato affetto lo conoscete voi pazienti e soprattutto il medico me lo ha già indicato, ma mi serve per quello che è poi uno degli obiettivi della educazione vestibolare ridare la specificità del di ciò che fa il sistema vestibolare, ovvero la localizzazione spaziale del corpo nello spazio e questo appunto fa sì che il paziente magari devia di 90 gradi a sinistra, si trova smarrito, ma il paziente non sa di aver girato a sinistra. È quello che ci deve far un attimo capire che appunto dobbiamo lavorare sulla localizzazione spaziale, quindi su su vari gradi di attentività anche, ma ne parlo fra poco. Poi vediamo un attimo a che grado è la fase se acuta, subacuta o cronica, quindi facciamo una ricerca del minstagmo spontaneo, con una ricerca del minstagmo provocato con il shaking test e con vibratore mastoideo e facciamo dei test molto importanti per capire su cosa lavorare un test fondamentale secondo me è il test dell'acuità visiva che ci dice che vi ricordo si effettua con una tavola ottometrica decimale, si mette il paziente a tre metri dalla tavola quella che usano gli oculisti, si chiede al paziente di leggere la riga minima che riescono a vedere e si va a muovere la testa del paziente e a chiedere al paziente quale riga riesce a leggere quello ci dà che cosa? Ci dà il grado di perdita del mantenimento della mira con movimento della testa. Allora per quanto riguarda i test strumentali abbiamo una stabilometria statica che ci dice la strategia posturale del paziente, che ci misura l'instabilità, che ci ricerca possibili interferenze dell'articolazione temporomandibolare, interferenze proprio cettive quindi della cervicale e interferenze eventuali visive e una stabilometria statica che può essere usata anche per riabilitazioni di vertigini, ovvero con dei programmi apposta che fanno sì che il paziente riprenda il controllo di se stesso, il controllo posturale di se stesso. Nella pratica si chiede al paziente di montare sulla pedana, noi usiamo una pedana Euroclinic con talloni uniti, con piedi divaricati di 30-35 gradi, si chiede al paziente di fissare un punto posto davanti alla croce degli occhi per 30 secondi, ci sono test vari ad occhi aperti, ad occhi chiusi, con capo retroflesso per misurare l'interferenza cervicale, a bocca aperta e ad occhi chiusi per misurare le eventuali interferenze stomatognatiche, con soppressione plantare per vedere come lavorano le afferenze visive e vestibolari senza l'apporto proprio scettivo, perché appunto i cuscini inibenti proprio scettori servono per quello. E per valutare invece uno degli aspetti fondamentali della vita di un paziente affetto da instabilità o comunque un paziente con malattia di Meniere è che il paziente dopo le crisi, quando muove la testa dal lato affetto, ma anche dal lato sano, ha una perdita di guadagno e quindi di sistema visivo oculomotore. Quindi che cosa succede? Si ha quello che viene chiamato deficit del riflesso vestibolo oculomotore, ovvero il paziente muove la testa rapidamente dal lato affetto e improvvisamente e il paziente ha la sensazione di sbandamento, ha la sensazione se sta camminando potrebbe avere una turba posturale e il paziente nella maggior parte dei casi riferisce che è anni, insomma è da quando è malato che non muove più la testa dal lato affetto. Noi abbiamo questo esame molto molto importante che è il Functional Ready Pulse Test che appunto ci permette di oggettivare e quantificare il deficit del riflesso vestibolo oculomotore. Ora ho un video che vi mostrerà che come viene fatto, comunque ve lo spiego brevemente. Il paziente viene posizionato a un metro e mezzo circa da uno schermo, su questo schermo completamente nero c'è un puntino grigio al centro, al paziente viene applicato un sensore sulla fronte e noi alle spalle del paziente muoviamo rapidamente la testa a destra e a sinistra senza avvisare il paziente su quale lato la muoviamo e al posto del puntino grigio appare una C di Landolt, quindi appare un simbolo che il paziente deve riconoscere. Un paziente con un riflesso vestibolo oculomotore normofunzionale non ha nessun problema, un paziente come questa figura nella diapositiva e in questo caso era una nevrite erpetica dell'orecchio di destra, come vedete ha un deficit del quasi 70% quando muove la testa a destra, quindi risponde al 30% degli stimoli, ma anche come vedete il lato sano è comunque affetto. Andrea usa il cursore così è più facile capirlo. Ok, prego prof, scusate. Dicevo, come vedete in questa slide, questo paziente ve la spiego brevemente, questi numeri grigi che vedete al fianco del blu e del rosso hanno come significato la media campionaria di pazienti con normofunzionalità vestibolo oculomotore. Il campione di persone sane viene appunto, viene analizzato, se io ho un paziente di 30 anni maschio, il software mi dà la campionatura di pazienti dai 30 ai 40 anni di genere maschile e questo come vedete è il numero di percentuale di pazienti sani 90% 91%. Come vi dicevo questo paziente con una nevrite del lato destro, come vedete ha un 30% di risposte sul lato affetto, ma come vi dicevo di solito abbiamo anche una perdita sul lato sano, in questo caso di quasi del 20% dalla media, del 30% dal 100%. Queste tre barre verdi e blu e verdi e rosse sono quello che poi fa sì che questo è uno strumento veramente importante perché analizza le frequenze specifiche, la 4000, la 5000 e la 6000 hertz perché vi ricordo, ma lo avrete sicuramente sentito negli altri, nei precedenti convegni dove si parlava di meniere, di riabilitazione vestibolare, che il riflesso vestibolo colomotore viene attivato ad un range alto di velocità, quindi questo ci indica una 4000 hertz, una 5000 hertz, una 6000 hertz, quindi è proprio la velocità della testa e sotto abbiamo le risposte esatte alle determinate frequenze di stimolazione che noi che noi riabilitatori usiamo. Abbiamo un breve video che vi vorrei mostrare dove appunto vi fa vedere la semplicità e la poca invasività dell'apparecchio anche se sembra una persona molto in salute, questo è un paziente affetto da un deficit bilaterale di riflesso vestibolo oculomotore, come vedete ci dà la possibilità di scegliere fra i vari test del riflesso vestibolo oculomotore sui canali laterali, quindi con movimento orizzontale della testa, ma ci dà anche la possibilità di valutare il riflesso vestibolo oculomotore con movimento della testa verticale e quindi di stimolazione dei canali anteriori e posteriori di entrambi i lati, questo è il test, semplicemente, come vedete giriamo la testa e chiediamo al paziente di individuare l'AC di Landolt. Allora, dopo aver fatto questa valutazione procediamo al protocollo. Il protocollo di riabilitazione vestibolare, come vi dicevo, si differenzia a seconda della distanza temporale che intercorre fra la patologia, quindi per quanto riguarda la malattia di Meniere, fra l'ultima crisi e l'inizio. Se sono passati meno di due mesi, il protocollo prevede dieci sedute in tre settimane, è un protocollo molto stretto perché il sistema vestibolare, quindi il cervelletto, è qualcosa che va stimolato quotidianamente, se invece sono passati più di tre mesi, allora si fa dodici sedute in sei settimane. La riabilitazione vestibolare è personalizzata e la riabilitazione vestibolare verte su uno dei più grandi. È importante sapere che gli esercizi variano di settimana in settimana, il grado di difficoltà deve sempre aumentare, il paziente deve essere accompagnato all'interno della riabilitazione e la riabilitazione noi la effettuiamo dividendo in quattro grandi categorie il lavoro. Lavoriamo sulla propriocezione statica che appunto serve per far riprendere coscienza e conoscenza del proprio corpo all'interno dello spazio al paziente. Lavoriamo sull'oculomotricità, quindi sui riflessi viso-vestibolari come l'inseguimento lento, i riflessi saccadici, il riflesso ottico-cinetico. Ve ne mostro semplicemente uno dei video sul riflesso di inseguimento lento. Si può lavorare tranquillamente, semplicemente con una penna, viene chiesto al paziente di inseguire una mira, cosa che sembra semplice ma che voi sapete può essere molto complicata per chi muovendo gli occhi ha questa sensazione di instabilità. È un'instabilità che va appunto rieducata. Vado rapidamente con un altro video che vi mostra appunto un accenno di un lavoro sui movimenti saccadici, quindi un altro lato dell'aspetto della vita del paziente è quello di muovere rapidamente gli occhi, anche a testa ferma può dare molto fastidio al paziente. Ci lavoriamo, chiediamo al paziente di fissare prima una penna, poi l'altra. Naturalmente quello che vi sto facendo vedere è la base della riabilitazione. Ci si può riabilitare veramente con una sedia e una penna e tanta volontà. La terza categoria è la vestibolo-oculomotricità. è un po' quello di cui abbiamo parlato e quindi vado molto rapidamente. Si chiede al paziente di stare in stazione letta, di stare seduto, di muovere la testa, muovere la testa senza una mira, con una mira, occhi aperti, ad occhi chiusi, muovendosi sul posto, muovendo, camminando, come in questi video che vi faccio vedere, essendo senza audio ve li commento io. In questo caso il paziente viene chiesto di camminare e di fare ciò che poi nella vita è difficoltoso, ovvero muoversi rapidamente e rispondere ad uno stimolo. In questo caso visivo chiedo al paziente di dirmi con rapidità che numero gli sto indicando e poi di camminare indietro e quindi di appoggiare la propria attenzione sull'appoggio del piede. Mentre per quanto riguarda l'altro video che vi dimostro, questo è un video dove chiedo al paziente, sopra un cuscino proprio eccettivo, di muovere la testa e di fissare un punto, non fissare un punto. Posso chiedere al paziente contemporaneamente di lavorare su più soglie, anche attentive. Posso chiedere al paziente di muovere la testa e contemporaneamente muoverla a seconda di un ritmo deambulare, eccetera eccetera. Insomma, questo naturalmente è stato un accenno di riabilitazione vestibolare, la riabilitazione vestibolare è molto molto altra, il messaggio che vi deve passare è che i deficit creati dalla malattia si possono compensare, si possono compensare tranquillamente. Questo è il protocollo di controllo del percorso, dopo 4-5 sedute, dopo un mese e in ultima seduta. Grazie per l'attenzione e mi ricollego. Giampiero, non so se tu puoi mandare uno di quei due video che ho messo in memoria la volta scorsa per farvi vedere anche il Human Body Posturizer che è una nuova tecnica che noi stiamo utilizzando nella riabilitazione vestibolare. Se abbiamo tempo, se hai modo di rintracciarli, insomma, vedi un po' tu, fammi sapere. Lo sto rintracciando. Ok, come avete visto insomma, la riabilitazione è uditiva ed è vestibolare, ma è anche promocentiva, nel senso che il fisioterapista che si occupa di terapia miofasciale è sempre accanto a noi per migliorare la risposta riabilitativa del paziente, ogni volta che il riabilitatore vestibolare è la più opportuna. Ecco, vi volevo farvi vedere questo, questo è un apparecchio che si chiama Esoscheletro, ma in realtà si chiama Human Body Posturizer, c'è un apparecchio che è stato realizzato, ideato e realizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie del Foro Italico, dal professor Maurizio Ripani che collabora con noi. Vedete tutti gli esercizi di cui diceva il dottor Santoni, con il laser, con il puntatore, con le cose, vengono fatti anche quando è necessario, ovviamente non è una regola, con questo apparecchio che è una specie di armatura che ha la possibilità di tenere, vedete, ben simmetrici tutte le fasce muscolari e con un casco collegato al dorso che permette una normale motilità della testa, ma normale, non contratta come invece spesso hanno. Vedete, poi il paziente viene chiesto di seguire una mira laser, nel frattempo si muove sulla pedana proprio eccettiva, ha il esoscheletro, quindi tutti i suoi movimenti sono simmetrici, vedete, sono tre diverse riabilitazioni che vengono fatte nello stesso momento, visiva con il puntatore laser, proprio eccettiva con il tappeto morbido e di tipo ovviamente vestibolare per quanto riguarda il movimento e il capitale sul posto. Ecco, sono tecniche che ogni mese ce n'è una nuova. Tutto questo riguarda appunto l'esperienza dei riabilitatori e le risposte che il paziente poi fornisce ai vari medici. Ok, io credo che abbiamo finito un pochettino e in onora non si poteva fare molto, eh Mauro? Quindi spero di essere stato eh sufficientemente chiaro. Siamo. Professore, non la ringraziamo tantissimo eh a dottor Andrea Santoni, grazie perché ci avete eh donato eh il vostro tempo ma per eh far sì che il malato di minera sia sempre più consapevole che esistono delle tecniche, esistono dei veri specialisti che si occupano di noi perché dobbiamo sfatare forse quel luogo comune in cui spesso ricandiamo che quello che nella malattia venire si sente ah io ho fatto questo eh fallo perché vedrà che ti farà bene. No, nel senso mi riferisco al fatto che ogni malato deve essere inquadrato dal proprio medico e deve seguire necessariamente il percorso che indicherà il medico. In questo caso sappiamo che abbiamo tante belle opportunità per migliorare la nostra sintomatologia nel quadro della eh audiologia nel quadro della riabilitazione vestibolare che sono purtroppo due temi che a noi affliggono in continuazione. Io ringrazio veramente eh i nostri amici medici perché ormai dopo tanti anni di che ci conosciamo loro sono sempre pronti a darci il loro supporto. Grazie ancora eh lascio la parola a Giampiero il nostro regista che eh eh elaborerà le domande dei video ascoltatori. Grazie. Grazie Mauro, grazie ai medici che ci supportano. Allora abbiamo raccolto un po' di domande eh le prime domande che sono pervenute ci chiedono su acufeni, idrope. Al dottor Attanasio allora domando ehm come si può prevenire l'insorgenza di un acufene o anche ridurre o prevenire un idrope? prevenire l'insorgenza di un acufene possiamo fare molto poco. È ovvio che ci sono dei delle situazioni eh che sono a rischio eh l'esposizione ai traumi acustici, la eh infezioni virali eh problemi di tipo vascolare e quindi fare sempre un controllo. Quindi diciamo come acufene in generale eh bisogna avere una vita sana ma questo vale un po' per tutte le malattie. L'acufene è un sintomo di una sofferenza che può essere una sofferenza metabolica o vascolare e quindi è ovvio che tutto ciò che riguarda il metabolismo quindi una corretta alimentazione, un movimento, sport eh il controllo della pressione del sangue, il controllo della delle arterie e delle vene cerebrali, tutto fa sì che eh insieme ovviamente alla alla riduzione dell'esposizione sia lavorative che ludiche ai rumori traumatici. Per quanto riguarda l'idro che purtroppo ve l'ho detto eh ci sono delle terapie mediche, delle terapie alimentari e in alcuni pazienti vanno bene, in altri un po' meno eh certamente tutto tutta la terapia è inquadrata e ha come obiettivo quello di ridurre la crisi idropica quindi i diuretici, il il cortisone, i farmaci per via in panica e poi la la dieta iposotica iperidrica nei pazienti che rispondono altrimenti comunque un controllo del sale e una buona idratazione vanno sempre bene. Un altro utente ci domanda quanto può incidere la stanchezza soprattutto mentale oltre che fisica? La stanchezza eh è molto molto importante per quanto riguarda i fattori eh sovraliminari cioè la la fullness e il l'acufene. La stanchezza fisica eh spesso viene messa anche in relazione alla crisi vertiginosa. Io credo che ci sia una relazione anche tra questo però mentre per la fullness e il l'acufene c'è proprio ci sono proprio dei dati di letteratura sulla crisi vertiginosa molti dicono beh è stato un periodo stressante e mi è partita la crisi però poi io domando ma era l'unico periodo stressante che ha avuto ma in realtà poi uno ce n'ha tanti di periodi stressanti e magari la crisi non è partita poi parte una volta ma da un punto di vista scientifico non c'è una significatività eh quello che il paziente riferisce può essere anche semplicemente una coincidenza. Sicuramente sulla fullness per una contrattura dei muscoli crani cervico facciali e sulla l'acufene per una ridotta capacità di gestire il sintomo la stanchezza fisica agiscono ok grazie ehm nella nella sfera delle donne eh i sintomi della miniere possono essere influenzati anche da fattori ormonali? Assolutamente sì assolutamente sì ci sono delle crisi idropiche che sono molto in relazione o al al ciclo ormonale al ciclo mestruale oppure nel periodo della premenopausa eh gli estrogeni e i progestinici sono molto eh sono stati sempre messi in relazione con la crisi idropica soprattutto gli estrogeni quindi eh i pazienti donne ovviamente quando si avvicinano verso il climaterio verso la la fine delle del loro periodo mestruale hanno una una variazione delle crisi vertiginose in genere in senso migliorativo. Grazie allora eh un altro utente ci dice che c'ha un acufene fisso monolaterale H24 ultimamente eh sporadicamente sente per circa 20-30 secondi un fruscio anche sull'orecchio sano quante probabilità ci sono che stia diventando bilaterale? Ah no nessuna sono sono due acufeni diversi e uno è continuo quindi quello è una informazione di una sofferenza della coclea e quello sporadico è un fatto assolutamente occasionale legato probabilmente o a un problema diciamo pressorio o un problema vascolare o un problema eh di tipo muscolare ma se sono due acufeni diversi il fatto che diventi bilaterale non c'è nessuna eh evidenza nel senso che diventa bilaterale perché quello nuovo alla fine diventa cronico ma non perché c'era già l'altro quelli sono sono due acufeni diversi probabilmente anche l'origine è diversa quindi io direi quello quello cronico magari sta lì eh lo gestisce bene quello nuovo farebbe bene a fare qualche indagine e vedere se non è un problema muscolare così lo blocca subito prima che diventi poi duraturo. Un altro utente ci chiede a quale professionista si debba rivolgere per terapie sulla bufene che siano mediche comportamentali o di altro genere? No non c'è un medico specifico è ovvio che l'otorino il medico di riferimento questo è sicuro l'otorino intanto deve escludere i problemi otologici e in genere ci sono quindi eh l'otorino è lo specialista centrale che poi una volta elaborata la sua diagnosi manda il paziente ai diversi specialisti in base a quello che lui ritiene sia la la causa principale. Noi nel nostro centro abbiamo il psico facciale, il fisiatra, il neurologo, il pascolare e il il tecnico psico comportamentale. Quindi insomma qualunque cosa sia l'acufene da qualcuno eh va e e qualche cosa la facciamo insomma. Però è ovvio che l'otorino da solo può fare molto. sempre ricollegandoci alla domanda di prima sullo stato di stanchezza, di stress eh anche uno stato depressivo può incidere? Assolutamente sì. Noi abbiamo pubblicato sei o sette anni fa un articolo in cui abbiamo visto che una riduzione dei volumi di serotonina eh nel nel cervello riducono aumentano molto la la l'intensità dell'acufene. Questo è uno dei motivi per cui il paziente con acufene deve assolutamente dormire la notte e deve essere trattato con antidepressivi se ci sono problemi di stati depressivi perché la depressione e il risvegli notturni portano ad una riduzione della quantità di serotonina come mediatore chimico delle sinapsi eh neurali e quindi un aumento, un'apertura dei filtri che fanno passare l'acufene. Quindi antidepressivi e ansiolitici ipnotici per dormire nei pazienti che ne hanno bisogno. Quale figura medica bisogna rivolgersi per fare riabilitazione vestibolare? Cioè sempre lo Torino che in qualche modo inquadra la terapia oppure si può anche eh decidere di andare solo dal vestibologo? No in realtà no in realtà è sempre meglio che sia lo Torino a dare delle indicazioni poi è ovvio che il protocollo riabilitativo viene fatto dal tecnico di riabilitazione. Questo è fuori luogo, è fuori dubbio. Lo Torino non ha le competenze, non ha nemmeno l'esperienza per dire al tecnico quale protocollo usare. Anche perché molto spesso, e questo Andrea sicuramente lo confermerà, man mano che si conosce il paziente si riescono a capire anche quali sono gli esercizi più adeguati per lui. Quindi assolutamente no, lo Torino deve solamente indicare quali sono i riflessi che secondo lui devono essere maggiormente stimolati, ma poi il modo e il protocollo, la durata, i tipi di esercizi vengono scelti in maniera assolutamente autonoma dal tecnico che ovviamente deve essere bravo perché se non hai esperienza è meglio che lasciatelo. Questo vale sempre. Sì. Qualca altra domanda? Molti chiedono un po' dove dove eseguire questa terapia riabilitativa. E questo però poi diventa diventa una, non so se Mauro me lo permette, io vi posso dire, no purtroppo vi devo dire che la riabilitazione vestibolare non rientra tra le prestazioni che il servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti, quindi non ci sarà mai almeno per ora nessun nessun luogo pubblico, ospedale, clinica convenzionata o ambulatorio convenzionato che possa fornire questo protocollo perché non rientra, proprio non c'è proprio il codice, quindi per ora chi vuole fare la riabilitazione vestibolare, vestibolo progettiva deve farla in ambiente privato e quindi non vi posso dire dove perché sennò poi diventa pubblico. Quale ruolo hanno le benzodiazepine nel controllare i sintomi vestibolari? Un ruolo importante, ovviamente sono sedativi, quindi vanno bene nelle fasi acute, ma devono essere sempre ridotte nei momenti in cui noi iniziamo una riabilitazione vestibolare, perché la benzodiazepina, così come i vestibuli soppressori, la betaestina, la cinalizina, eccetera, sono farmaci che vanno bene per ridurre i sintomi acuti della vertigine, ma poi essendo sedativi riducono la risposta del cervello nel compenso, quindi quando iniziamo un processo di riabilitazione vestibolare, questi farmaci piano piano, quando possibile, devono essere quantomeno ridotti, in alcuni pazienti non possono essere tolti perché sono talmente di lunga somministrazione che sarebbe un problema per loro toglierli completamente, ma sicuramente devono essere ridotti e presi solamente nelle fasi acute. Un altro utente ci parla di gentamicina, il familiare ne ha fatto quattro, è stato bene per un anno, ora ha nuovamente instabilità e vertigine. Quante gentamicine bisogna fare e quanta riabilitazione vestibolare può risolvere? La gentamicina è una tecnica che viene utilizzata quando quelle meno aggressive non hanno prodotto dei risultati, quindi io la utilizzo quando la terapia medica e la terapia riabilitativa non sono state sufficientemente utili al paziente. È una tecnica ablativa, quindi va a distruggere il labirinto posteriore. Se il paziente dopo un anno ha riavuto le vertigini, bisogna vedere se le vertigini sono dovute ad una riattivazione dello stesso lato che è stato infiltrato e quindi bisogna continuare le infiltrazioni di gentamicina, oppure come più spesso accade è una attivazione dell'altro lato e in questo caso ovviamente non deve essere fatta la gentamicina, altrimenti poi diventa un reflettico bilaterale e quindi poi diventa impossibile da riabilitare. Deve fare un controllo e capire questa questa ripresa delle crisi, a quale lato è dovuta. Certo. La Fibers, i potenziali evocati in ultimi, i genici. E parliamo adesso anche di attacchi di Tumarkin e rigidità cervicale. Sì. Cosa è possibile fare in questi casi? Quello, la Tumarkin è veramente un problema serio perché ovviamente a parte la gravità proprio del sintomo e la possibilità di ferite importanti durante la caduta non sono prevedibili e purtroppo credo che anche la riabilitazione vestibolare sulle crisi di Tumarkin sia veramente difficile da immaginare che possa dare dei risultati. Lì bisogna agire sulla terapia medica, cercare di bloccare il segnale vestibolo e basta. con la Tumarkin purtroppo il problema è importante, non c'è molto da fare. Lì o si fa la neurotomia vestibolare o si fa la gentamicina con un'abrazione vera però quindi con le multiple dosi giornaliere finché non si blocca tutto il vestibolo. Quindi in quel caso la rigidità del collo è dovuta alla Tumarkin? No, è reattiva, è reattiva, è una risposta del sistema alla sintomatologia, non è, non ci sono relazioni, la Tumarkin non è legata a una rigidità del collo, è un problema proprio autolitico, una crisi autolitica avuta. È possibile per un menierico in fase tranquilla riprendere a fare sport fisicamente impegnative di contatto? Lo deve fare, è molto utile, qualunque cosa che lo riporti sia da un punto di vista emozionale che dal punto di vista fisico e muscolare, a muoversi, a muovere la testa, a muovere il collo, a muovere, a stare bene anche da un punto di vista proprio personale, è tutto consigliato assolutamente. riprendere tutte le attività ludiche e relazionali e lavorative, non bisogna bloccarsi in niente, quando possibile. Sono d'accordo. La nausea forte tra i benefici dalla riabilitazione vestibolare? Andrea, non lo so, mi sembra di no, mi sembra, non lo so. Beh, certo, se migliora il compenso migliora pure la nausea. Dipende la causa della nausea. Se è una nausea cronica, forse sì. del riflesso vestibolo-oculomotore avviene quando il paziente muove rapidamente la testa, oppure è dovuto al fatto che il paziente non muovendo più la testa è bloccato con il collo e quindi ha bisogno di una riabilitazione proprio settima, sì. E quanto i tappi auricolari di cera possono peggiorare una situazione? Beh, peggiorano sì, peggiorano l'udito, peggiorano l'acufene, non peggiorano la vertigine perché quella non viene peggiorata dai tappi di cera, però certo, se uno ha un acufene e ci mette pure un tappo dentro l'orecchio, l'acufene aumenta perché si riduce il mascheramento dei suoni ambientali. Per quanto riguarda la fullness e l'ovattamento, ovviamente, però è anche vero che se il paziente menerico mette i tappi, evidentemente, tutti questi problemi non ce l'ha e se questo l'aiuto a dormire perché magari c'è un ambiente rumoroso la notte, non è che c'è una risposta medica per tutto. Certo, va bene, allora penso che ci possiamo anche fermare, se arrivano altre domande le raccogliamo e poi magari le archiviamo e ve le poniamo in un secondo luogo. Noi vi ringraziamo per la vostra gentilissima disponibilità. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi anche a Mauro, mi ha mandato un messaggio dicendo che non riesce più a collegarsi e quindi se ci sente, ci sente di sicuro, io lo ringrazio, vi faccio tanti in bocca a lui per questa sua attività di nuovo presidente dell'associazione che è un peso importante ma che lui sicuramente riuscirà a sopportare con tanta sternità. Grazie anche a te Gian Piero per il controllo. Grazie, buona giornata a tutti. Al prossimo appuntamento. Buon fine, ciao a tutti.